Cercherò di fare appunto dialogare su questo transito forse non immediato tra appunto la situazione globale ed europea che Raul ci ha aiutato a definire nei termini di regime di guerra e appunto le elezioni europee che però secondo il mio modo di vedere vanno collocate appunto semplicemente come un punto di snodo intermedio di questa situazione piuttosto caotica dal punto di vista politico che si trova a svolgersi in una sorta di interregno prima delle elezioni presidenziali americane. Dico questo perché appunto parlare di regime di guerra significa provare ad affrontare il tema della guerra dentro uno scenario di crisi globale complessivo degli assetti di egemonia parlare di una situazione di caos ecosistemico del capitalismo globale visto che appunto a differenza di altre fasi storiche questa situazione che stiamo in qualche modo vivendo non può essere in qualche modo trattenuta all'interno di un semplice scenario di passaggio di egemonia come poteva essersi verificato che ne so io nel secolo XIX tra la crisi della potenza imperiale inglese e l'emersione degli Stati Uniti come potenza globale. Siamo in una situazione nella quale anche le grandi crisi esplose nella forma della guerra si rendono difficilmente decifrabili all'interno di questo schema proprio per il fatto che appunto la situazione che una volta poteva essere riferita alla guerra come situazione particolarmente evidente di una crisi che giungeva al suo appoggio va invece ricondotta a un scenario che forse possiamo definire di assoluta normalità della crisi quando alludo alla difficoltà di immaginare una crisi di egemonia dentro la quale una nuova potenza egemone in qualche modo si affaccia mi riferisco un pochino a questo insomma Parliamo di guerra ovviamente da due anni per la situazione che si è determinata con l'invasione dell'Ucraina possiamo parlare di guerra dentro uno scenario complessivo appunto che riguarda per esempio la difficoltà a definire i nuovi canali di approvvigionamento del capitalismo globale e delle grandi crisi delle infrastrutture che questo marca è cominciata con la crisi pandemica ovviamente con la difficoltà dell'apprivigionamento delle supply chains a livello internazionale ma anche per quanto riguarda il Medio Oriente visto che appunto nei territori tra Israele e Palestina si era immaginata la possibilità di costituire credo che si stia costituendo un corridoio logistico assolutamente rilevante che dovrebbe passare attraverso l'Arabia, Dubai eccetera per far arrivare le merci in Europa e a girare così la via della seta cinese altre situazioni di guerra non ancora dichiarata ma in qualche modo si annunciano nel sud-est asiatico nel mar della Cina eccetera e insomma mi sembra di poter dire che appunto quei regime di guerra dentro la quale la guerra non è semplicemente ciò che si manifesta nella maniera in cui siamo abituati a considerarla con i massacri, con le invasioni eccetera e resta appunto quando non esplosa comunque sotto traccia come passaggio di riarticolazione dei grandi poteri globali sia appunto la situazione nella quale stiamo vivendo una situazione dentro la quale per di più oltre che il livello delle relazioni internazionali sono coinvolti clamorosamente anche poiché questi regimi di guerra si definiscono anche come logiche di governo significativi processi di riarticolazione all'interno dei singoli paesi autoritarismo, spostamento a destra guerra contro i migranti guerra contro le donne crisi ecologica come in qualche modo nominava Antonio poco fa uno dei primi risultati di questi nuovi regimi di guerra di queste logiche di governo che si applicano a questi regimi di governo per esempio sono proprio le questioni delle ecologie che erano al centro dei processi di investimento che si stavano facendo dopo la crisi del covid e che in qualche modo sono state obliterate e cancellate da politiche che invece come dire provano a rilanciare la questione del riarmamento la questione dell'industria pesante forme di protezionismo che ultimamente che ultimamente nel senso inglese che alla fine tendono a riprodurre come dire e a rendere ancora più esplosiva la situazione globale dal punto di vista appunto dei regimi di guerra io credo che sia di queste cose che dobbiamo parlare prima ancora di cominciare a parlare di questa tappa intermedia che sono state le elezioni europee e che comunque hanno significativamente secondo me reso evidente che queste questioni della guerra dello schieramento su un lato e sull'altro sono state un pochino al centro pur dentro campagne elettorali che in qualche modo non hanno mai esplicitato fino in fondo questo tipo di problemi sicuramente sono al centro per esempio di quei processi di riassestamento autoritario all'interno dei singoli paesi che in qualche modo sono annunciate dentro questa transizione prima Antonio citava Tony e il fatto che già una decina di anni fa assumesse come tutti noi in fondo sotto il suo esempio l'Europa come un terreno significativo forse il primo terreno significativo di intervento politico per poter ragionare nella fase che si era aperta allora e che tuttavia ancora si va affermando nella sua centralità io credo che quindi la discussione che possiamo fare questa sera in una sequenza riguardi un po' i regimi di guerra le articolazioni nazionali dei regimi di guerra le elezioni e soprattutto che cosa che cos'è che cosa può essere l'Europa visto che appunto fin dall'inizio della guerra russo-ucraina alcuni di noi dicevano probabilmente la posta in gioco dentro il riaffermarsi della centralità della Nato che bisogna appunto anche vedere con il risultato delle elezioni americane come si metterà è probabilmente appunto l'Europa e la sua messa in crisi come soggetto di questa nuova rivalità imperiale centrifuga che non vede appunto potenze genomiche egemoniche emergenti in senso chiaro gli Stati Uniti per quanto in crisi contano ma c'è la Cina ma c'è il sud del mondo eccetera forse se ce la faremo oggi questa seconda parte diciamo così più relativa agli assetti globali può essere lasciata un po' sotto traccia ma io credo che appunto questi primi tre punti regimi di guerra Europa elezioni possono già fornirci alcune indicazioni di discussione insomma e quindi inviterei a cominciare a intervenire su questo io propongo se siete d'accordo che il primo a parlare sia Raul Sanse Sedillo poi Sandro e poi farei intervenire ringraziandolo ancora per la disponibilità a Judith da Parigi che forse ci può fornire anche il passaggio sulla situazione francese che forse in questo momento tra crisi degli assetti rappresentativi elezioni e però a me sembra significativi processi di riarticolazione dal basso del protagonista dell'intelligenza moltitudinaria ci può dare alcune indicazioni su quello che appunto sta succedendo per cui Raul a te la parola